Carci riescono a trovare la giocata vincente, Insigne ha fatto la giocata vincente al novantesimo dopo una partita onestamente opaca però quando il giocatore è forte, anche all'ultimo minuto, anche se non ha fatto una grande partita, eccolo qua, che esce fuori, il gol praticamente è suo Ha saltato secco Hunters e Novotri si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto, è bastata una giocata a Insigne, 1-1 Rivediamo il traversone, c'era lì Garcia a cercare di ostacolare Novotri, noi siamo praticamente arrivati insieme sul pallone Ma Soma Novotri